Allora, se ci vuole... No, ma dipende, non so che dirvi. Allora, non ti dico nulla, perché è un po' come ti trovi nella posizione del tuo interlocutore di cui ci hai parlato ieri, no? Ti trovi in difficoltà nell'aggiungere qualcosa a quello che... No, l'unica cosa che posso dire è che questo è un documentario, non un film etnografico. Certo. Cioè la distinzione tra film etnografico e documentario è ovvia. Per esempio, un ottimo esempio di film etnografico è l'albero degli zoccoli di Olmi, che è quindi una ricreazione. Questa qui è semplicemente una presa, ripresa, diciamo, tendenzialmente oggettiva di una realtà rituale. Quindi sono stato girato in tre anni diversi, sono gli ultimi tre anni in cui loro hanno eseguito queste danze secondo il canone tradizionale. Dopodiché sono finite per sempre, cioè nel senso che io le ho riprese nei tempi che quindi era di solito il loro danzo alla fine di maggio, i primi di giugno o metà giugno, dopo il raccoltanno. Sono tanti che vanno avanti per tre o quattro mesi, secondo la bontà o la non bontà del raccolto. Possono durare anche tre anni consecutivi o quattro anni, dopodiché possono essere riprese dopo dieci anni. Purtroppo, come succede in questo tipo di realtà, a un certo punto le cose cambiano improvvisamente per centinaia di ragioni, poi arriva un momento in cui la cosa accade e cade per sempre. Per esempio nell'isola Kiriwina, che è l'isola prima di Kitawa, cioè che a voi è più nota per i lavori di Malinowski, già sono anni e anni che non vengono più eseguite le danze tradizionali, ma vengono eseguite, se richieste per esempio si arriva una personalità, cioè il primo ministro Paolo Guinea, però non sono più danze rituali. Quindi quando io dico che sono il danze rituali eseguite secondo il cane tradizionale, è perché rispettano appunto questo canone, cioè fatte alla fine del raccolto annuo, con queste decorazioni che avete viste, e a seconda la volontà del capo villaggio, eseguendo dei ritmi estremamente cadenzati, sono anche molto faticosi, perché avete visto loro, cioè questo è un frammento, loro danzano per ore e ore, anche di notte, e di notte per esempio non si decorrono, ma eseguono soltanto le musiche, hanno Calibum, che sono notte di amore, in cui ci sono accoppiamenti liberi, avete visto le ragazze sono giovanissime, sono 11-12 anni, quando già inizia l'età dei primi rapporti, i ragazzi sono tendenzialmente su 16-17 anni, quindi sono completamente liberi di stare insieme, quindi di violare i cosiddetti rapporti clanici. Mentre ieri, ho accenato brevemente, che sono 4 clan A, B, C e D, tendenzialmente una ragazza, se A deve avere rapporti con un ragazzo B, C e D, se ha rapporti con un ragazzo del stesso gruppo A, commetti incesto, se avete visto ieri A, A, uno, cioè tutti e due, il stesso clan e il subclan, incesto massimo, perché equivale all'incesto tra fratelli e sorelle. Però durante questo periodo, i rituali, in cui ci sono queste danze, loro sono molto più liberi, dopodiché però finita le danze, questo spazio di libertà viene chiuso e quindi loro tendenzialmente rispettano questi rapporti. Per esempio io per anni e anni ho creduto che fossero delle danze, diciamo, rituali, tra virgolette, ma non avevo mai associato per esempio la danza allo scontro, alla guerra. Poi quando ho iniziato a tradurre i miti di fondazione, ho trovato, diciamo così, accendi estremamente chiari, che la danza, queste danze che ho visto, erano danze di guerra, cioè i canti che ho di ascoltare, erano canti di guerra, cioè loro componevano i canti, le figure, perché sono varie figure di danza, adesso va bene, non vi voglio annoiare, e prima dello scontro fisico e dopo lo scontro, a secondo se la vittoria c'era o non c'era, loro danzavano e cantavano. Però come spesso succede, poi man mano che il tempo è passato, si sono defunzionalizzati e sono diventate delle danze rituali, nel senso che celebrano tendenzialmente il raccolto annuo e il ritorno dei frammenti dei morti nel villaggio. Quindi questi due elementi sono rimasti, diciamo così, invariati per centinaia di anni. Purtroppo sono finiti intorno all'inizio degli anni 90 a Kitawa e nell'isola occidente, cioè quelle Trobian di Malinoski, sono finite già da decine di anni, d'accordo? Quindi c'è stata una defunzionalizzazione, diciamo così, molto precoce, diciamo così. Dopo Malinoski siamo quindi negli anni 18-20, già negli anni 30-35, quando lui è tornato un'altra volta, le cose già siano un po' sfilacciate, perché Chiruina, diciamo così, è l'isola in cui c'era un residente bianco e quindi è più soggetto alla presenza anche delle missioni. Kitawa e Marshall Bennett, cioè tutte le isole ad oriente di Chiruina, fino agli anni 70, erano rimaste abbastanza isolate, anche per le difficoltà di comunicazione. È banale, ma è vero. A volte, diciamo così, noi andiamo in territori in cui è difficile arrivare fisicamente e questo garantisce, in un certo spazio, diciamo così, una continuità temporale. Poi quando le comunicazioni si accelerano, ovviamente, si accelera tutto in progressione geometrica. Io sono arrivato nel 73, ormai sono più di 40 anni e ogni volta che ritorno vedo i cambiamenti in progressione proprio geometrica, sempre più, diciamo così, accelerati. La distruzione, diciamo così, è progressive ed è completamente inarrestabile. Cioè una cosa che ieri forse non ho sottolineato e che, diciamo così, è stata un po' sollicitata dagli interventi di oggi è che non è vero che quando c'è la contaminazione non è affatto, diciamo così, positiva. Cioè loro perdono tutti, cominciando dalla lingua. Cioè io, per esempio, ieri qualcuno ha nominato Jack Goody, ma Jack Goody per me è stato un disastro a livello antropologico. Perché concettualmente, quando uno comincia ad adattare un'altra lingua, la lingua non è innocente, è asettica. Si porta dietro dei concetti che spesso è estremamente complesso recuperare un'altra lingua. In questo caso, per esempio, in questa zona nell'inglese. Il modo di composizione a cui ieri ho accennato è un modo di composizione, cioè orale, completamente orale, che riguarda la loro cultura tradizionale. Ma quando viene contaminata, in questo caso, da un'altra lingua, l'inglese, questo meccanismo mentale salta completamente in aria. C'è un periodo in cui, accanto alla lingua tradizionale, quindi ieri ho sentito una posizione di Paia, lui ha composto come si compreva da 2.500 anni. Cioè l'inglese a lui, diciamo, gli è strano, d'accordo? Ma ci sono dei periodi in cui c'è una contaminata, nel senso che la lingua tradizionale viene usata secondo i meccanismi logici tradizionali, per comporre le cose tradizionali. L'inglese serve ad un'altra cosa, come il francese o il tedesco. Un famosissimo poeta, Leopold Saint-Gorg, quello della mia generazione, ovviamente lo ricordo, un preme Nobel della letteratura. Lui ha scritto, ha vinto il Nobel con poesie in francese, solo in tardissime età, ha riscoperto la sua lingua tradizionale. Però la culturazione, dico, porta inevitabilmente alla distruzione di meccanismi, soprattutto logici, quello che poi a me interessa, cognitivi, tradizionali. Quindi la danza è semplicemente l'ultima disformanza di un modo di esprimere, sì, molto più complesso di quello che avete visto. Quindi è anche normale che loro non l'eseguono più, perché appartengono a un contesto culturale ormai quasi del tutto sfilacciato. E poi non so se avete altre curiosità. Ecco, prego, venite qui. No, no, deve essere comunque registrato. Ti faccio compagnia. Sì, grazie. Sì, su quest'ultimo punto, prima una curiosità, ne parlavamo con Vincenzo, il sonoro è in presa diretta? Sì, è in presa diretta. Ah, no, no. No, non sembrava in presa diretta, no, no. Perché le due, ci riprese, la prima addirittura era la Bell & Double, quindi forse non l'avete mai vista, è una macchina 16 mm, ma molla, perché non erano, quando io inizia, non erano disponibili i pannelli solari portabili. poi le ultime parti è stata usata un Ariflex 16 mm, e avendo un pannello solare potevo ricaricarla, però non era sincronizzata. Quindi tutte le musee sono state registrate su nastri analogici a parte, e la sincronizzazione è stata fatta a livello di montaggio. Ho capito. Durante il montaggio. E poi l'altra questione invece è quella che toccavi adesso, vedendole mi colpisce molto, perché dai tuoi libri si capisce un po' di più, per esempio, da Malinowski questo livello di formalizzazione non traspare, invece sono danze molto formalizzate. Allora, mi colpisce questo aspetto, tu dici a un certo punto smettono, no? Esatto. E' molto interessante proprio dal punto di vista cognitivo che una cosa così formalizzata a un certo punto scompaia. Allora, io ci ho detto, e questo nesso tra la formalizzazione estrema e la scomparsa improvvisa che mi colpisce. Dunque, appare, c'è una sì immediata, ma per esempio, poi, credo di aver capito come può succedere, c'è una ragione. Per esempio, nel 1973, quando io ho lavorato con questo famoso incisore di Taule Polico e Tauitara, quando io ancora, c'è un sì, non riuscivo a parlare la lingua, lui tutte le sere uscìva dalla sua capanna e dal tono della voce capivo che nel silenzio totale evidentemente, cioè, capivo che stava rimbortando. Cioè, lui faceva tutto l'elenco, d'accordo, di tutti quegli elementi che secondo lui non erano rispettati durante la giornata e ogni giorno. E il villaggio ascoltava, poi quando c'era qualche reazione, lui alzava il tono e capivo benissimo che l'altro veniva rimproverato. Perché evidentemente le persone più vecchie, più anziane, questo Taule Polico era, quando io ho iniziato, forse aveva 75 anni, 73, e quindi lui aveva alle spalle un cumulo di conoscenze più, chiamiamola, arcaiche, rispetto a quelli che io avevo incontrato al 73 già. e quindi lui era in grado di vedere quello che già lentamente si stava sfilacciando e lo riproverava. Quando lui è morto, io ho lavorato con lui nel 73, nel 74, poi sono venuto nel 75, lui è morto nel maggio 75, qui sono tornato nel 76, e quindi questa assenza di questa voce che ricordava al villaggio tutta una serie di regole arcaico, tradizionali che lui non rispettava, non c'era più. Quindi questo allora aiutava nel cambiamento. Quindi io al 73 e Tuitara soprattutto questo Siacqua che mi ha aiutato nella lingua finché è morto nel 2002, man mano che sparirono tutti questi personaggi aumentava l'accelerazione verso il cambiamento. Poi ovviamente quindi visto nel tempo, quindi qui siamo su 40-45 anni, a 40 anni c'è uno scatto che taglia di più e così via. Quindi io ho sempre detto che ho raccolto dei piccoli frammenti. Essendo una cultura dai 2000-2500 anni sarei arrogante. Quindi sono dei piccoli frammenti che ho cercato di bloccare e non sono così stupido da non capire che nel 73 ho perso qualcosa di estremamente importante. Anche se a volte mi vengono dei dubbi che forse ci sono delle cose fondamentali che loro conservano più a lungo. Per esempio i miti di fondazione essendo delle cose fondanti per le culture è come dire penso a un cristiano che uno gli distrugge la Bibbia nelle varie versioni vabbè cattolica protestante eccetera eccetera quindi dire a loro che uno e quindi diciamo si è loro viene difesa di più il testo sacro e questi miti di fondazione che sono i loro testi sacri vengono difesi di più infatti li ho raccolti dopo 20 anni perché anche loro li difendono quindi bisogna avere confidenza anche queste danze dunque l'aveviste 83 mi pare il primo e io ero già gisciani che ero lì quindi perché non gli davo fastidio mentre riprendevo quindi sono queste cose vabbè che capite normalmente quindi questi testi mitici loro che sono testi orali loro li difendono disperatamente quindi probabilmente io ho raccolto dei testi tra virgoletti molto più arcaici forse meno variati di quanti potessi pensare perché loro hanno una casistica il testo quella piccola poesia che ho sentito ieri è stata composta dai paia quindi diciamo è un contemporaneo lui adesso è morto però a loro esempio si aspettano che ci siano delle varianti soprattutto a livello di esecuzione mentre sono stanno molto più attenti che la variante non venga introdotta nel racconto orale del mito una performance anche perché i testi dei miti di fondazione sono più segreti non è che loro le raccontano pubblicamente ci sono anche le cose buffe per esempio qui dentro ci sarebbero cinque villaggi e quindi quando lui mi dice avvieni questa notte che io per registrare in modo che nessuno senta dico beh c'è lui accanto a me nella capanna mi pare assurdo lui sa che deve far finta di non sentire cioè perché quello ti racconta il mio mito del mio gruppo oclanico lui è un altro gruppo oclanico quindi non deve sentire ma lui sente d'accordo quindi c'è anche questa finzione lui sente può questo sentire come sente Valentino poi mi ha permesso mi ha fatto capire come mai loro riescono a controllare il contenuto del testo come dice stai attenta che lui ha introdotto le varianti che sono non accettabili oppure lui ti sta raccontando un mito un testo che non è così puro e ho detto vabbè questo come fa a sapere se non è il suo mito perché lì sono quattro gruppi poi ho capito che questo far finti di non sentire però permette a chi sente può disegnare un controllo sul testo cioè è come se uno producesse delle liste di frequenza e concordanza compiute loro lo fanno mentalmente con la memoria e questo gli permette questa messa in parallelo di testi e quindi di dare dei giudizi sulla diciamo beh sulla purezza tra virgolette del testo grazie sono Vincenzo Padiglione piacere ci siamo conosciuti una volta ma soprattutto all'inizio del diciamo proprio della rivista che dirigo Scoditti ha voluto contribuire per cui mi fa piacere rincontrarlo con un bel testo curiosità molto fra me quel vibrare delle foglie esatto ecco nel primo caso o nel secondo beh allora quel vibrare delle foglie che diciamo così segna e che io ho visto anche in un documentario sui trobreandesi quindi probabilmente e quindi mi interessa capire se tu hai una lettura di carattere simbolico ti dico un po' e così poi tu rispondi allora questo è un primo punto il secondo punto è allora c'è una lunga parlata introbriandese immagino che è chiaramente l'altro ecco che diciamo lascia un po' sbigottiti in senso che non l'hai messo neanche il sottotitolo per cui ci hai lasciato nella diciamo nel piacere del suono esatto in questo senso come proprio diciamo fare un paesaggio sonoro insieme con l'altro facevano anche le parole ma hanno un senso queste parole ecco la seconda cosa la terza è più direttamente pertinente con quello che diciamo il tema nostro questa allora tu hai diciamo segnalato questa sperimentazione diciamo erotica durante e anche diciamo al di là delle proibizioni classiche che ci sono durante il periodo del rituale allora adesso quando fanno questo rituale prevalentemente in omaggio ai politici tu percepisci che questi confini sono sempre liberi oppure è proprio un contesto ormai diverso dove i missionari hanno colpito perché poi il nucleo principale di queste cose sono i missionari grazie grazie allora allora anche la classica anche la classica no ah certo come no le bottigliette di i suonatori cantori si sono maglioncini allora nel primo gruppo di danza e di tebisila l'unica foglia che avevano in mano che è di pandano quello è il fatto che se non so si vede era alludeva vagamente alla forma di un serpente ed era questo serpente monichi nichi o muata che è un eroe mitico cioè uno degli eroi diciamo così mitici di di quest'area soprattutto di di kitawa che secondo la mia interpretazione sarebbe diciamo così tra virgolette l'architetto dello scambio rituale e il primo progettista delle famose canove cerimoniali d'accordo quindi infatti la prima danza sono più morbide sono i canti anche cantano la canova quando il così dice il rullio della canova la canova che affonda la veila eccetera eccetera quindi è molto più anche allude ad uccelli marine tipo l'aquila marina esatto al fregatario che sono dei simboli estremamente importanti che poi nello scambio rituale quindi nel secondo caso entriamo invece in una fase quelli sono tipiche diciamo così i movimenti figure di danze e guerriere non so come si può dire quindi il movimento infatti è molto più accelerato il ritmo e all'ultimo volto diciamo così c'è il rumore della lancia scagliata contro il nemico al muoversi diciamo così dei personaggi all'interno della foresta quindi infatti adesso non mi ricordo come si chiamano esattamente sono così delle foglie pisettate ma dentro ci sono dei semetti e quando loro le aggiano fanno rumore esatto e quindi c'è un'allusione anche ai rumori perché lì questi scontri sono dei scontri anche ritualizzati erano io ho assistito a 8-9 scontri diciamo così violenti tra i vari villaggi non sono così tranquilli e spesso loro si scontrano nella foresta ci sono l'imboscato nella foresta quindi c'è questa allusione continua anche diciamo così a questo ambiente un po' più fresco e credo si capisse che la marcetta è anche come è? sembra anche una marcetta sì esatto sì infatti loro c'è un film in cricket che è di Litch esatto che è una cosa molto curiosa un altro discorso però lì anche loro hanno sempre questa tendenza ad avere l'atteggiamento aggressivo infatti quando loro si scontrano si scontrano quando dico ritualmente perché c'è proprio una danza e loro due gruppi si avvicinano e poi si scontrano fisicamente quindi questa è la prima e poi scusa la seconda mi hai chiesto ah esatto allora esatto una cosa curiosa per esempio avete visto che loro le ragazze hanno il seno scoperto cioè le donne hanno il seno scoperto una cosa naturale cioè naturale loro non è che no infatti sono delle posizioni molto belle non è che non abbiano il concetto dell'eurocità del seno cioè non è diciamo così non è maliziosa nel senso che hanno capito che il seno può eccitare cioè la vista del seno può eccitare con il bianco e credo che questa cosa sia passata all'inizio attraverso l'esperienza dei missionari non ho dubbi ho anche altre simonianze ma questo vabbè diventa un poteco l'eurocità del seno è una cosa indotta dall'uomo bianco perché non è che loro non abbiano piacere nel farsi toccare il seno però non è così cioè è privo di qualsiasi connotazione connotazione maliziosa e infatti questo l'ho detto semplicemente perché hanno si arriva il primo ministro Michael Somare a Chiruina Pulayas il Paramount Chief diciamo così dice alla ragazza appunto di esporre il seno il più possibile perché loro questo diciamo così questo concetto l'hanno percepito esclusivamente dai bianchi che sono stati i primi missionari poi gli inglesi in quest'area poi ovviamente gli amministratori quando c'è stata l'amministrazione fiduciaria australiana e ci sono Chiruina quando si dice l'isola dell'amore che è un'idiosia totale è semplicemente perché alcune agenzie turistiche immaginano australiane e a volte organizzano dei weekend per i signori australiani ricchi e anche per i giapponesi a Chiruina c'è il Chiruina Lodge che è stato famoso per un certo punto per questo aspetto il tizio che lo diceva un porcellino inglese che lo chiamavo io è stato addirittura speaker del Parlamento il primo Parlamento della Papua della Guinea un pedofilo notissimo è stato speaker del primo speaker del primo Parlamento io mister quindi questo per poi quindi c'è questo aspetto esatto che non c'è ovviamente la danza tradizionale quelle che ho visto sono occasioni di amore le ragazze che ho visto sono ragazze che dopo cominciano il loro raccoppiamento durante la notte e poi chiamiamo tra virgolette lo sposalizio va bene quindi è un erotismo completamente loro cioè completamente gestito da loro l'erotismo questo nuovo è sollecitato e stato sollecitato dai bianchi e soprattutto dai missionari io ho avuto degli scontri violenti con il vescovo da Milbei perché lui riteneva andava da Pulaiasi a dire che questo tipo di danze sono oscene e ovviamente il concetto di oscenità a loro gli è straneo appunto quando parlavo di concetti traduzione dei concetti e Pulaiasi chiedeva a me cosa volessi dire e gli spiegavo cosa significa oscenità e lui ovviamente rimaneva libito e quindi dice perché io devo interrompere qualcosa che ha un sifiato completamente diverso per noi allora il vescovo non contento è andato alla carica dicendo che c'è una malattia l'ADS che si stava spargendo di cui loro non avevano minima conoscenza e quindi che queste danze potevano e lui di nuovo ha chiestato in Pulaiasi e ha detto voi come fate voi bianchi io bah no ci sono i condom e lui si è fatto spiegare cos'era il vescovo quando è andato dalla carica ha detto Giancarlo mi ha detto che voi usate questo ovviamente si è infuriato allora cosa è successo una cosa ancora più bassa secondo me è più sottile intellettualmente una suora che laureata in psicologia io temo psicologi cosa ha fatto non ha attaccato frontalmente dicendo che l'ADS cioè quindi di smettere i rapporti perché l'anno rapporti ovviamente molto innocente tra virgolette lei si è fatto mandare delle diapositive dei condoms che arrivano dalla Cina e quindi il materiale lattice si deteriora col caldo lì siamo a 40 all'ombra a 100% di umidità si deteriora e quindi si è fatto mandare questi condoms con tutti i buchi dicendo voi potete benissimo continuare però esatto quindi è questo per farvi un po' capire poi c'è il contesto quando cambia poi l'ultima domanda signora c'erano tre esatto no forse c'era un'altra che cosa diceva il testo allora il testo sono dunque perché allora io non sono un cineasta quindi questa cosa per me è un documento anzi mi spiace perché i colori sono stupendi mi sono molto meravigliato di aver visto vi confesso così sfocati adesso non so se è l'apparecchio o per la luce perché sono molto l'unica cosa tecnica che ho salvato perché stranamente non mi ho merito e cioè i colori sono stranamente ottimi però quello vuole dire non essendo un cineasta io ho ripreso queste cose come cioè dei prelievi di documenti quindi non avevo neanche intenzione di montarli detto che a retorno poi ho cercato di forse è bene montarli ma non volevo neanche appesantire con diciamo così con un testo per spiegare tutto quindi ho detto poi facendo questa sincronizzazione e sincronizzazione alla maviola ho detto vabbè allora preferisco mettere le musiche limitare c'è un articolo speaker un testo un po' che guida e lasciare sotto lo sfondo appunto raccontavano appunto la storia di queste danze appunto che sono danze che erano state le figure di danze i canti i canti di guerra sono nati così forse questo può essere utile anche per qualche altro campo però ormai percepite da loro si sono scontrati io fino agli anni 80 ho registrato scontri violenti tra i villaggi di Kitau d'accordo e loro raccontano ancora di scontri ancora più violenti e quindi loro danzavano e cantavano prima dello scontro e dopo lo scontro o per festeggiarli ci sono dei canti molto belli in cui loro piangono l'eccessivo numero dei morti oppure cantano le oricità di alcuni diciamo così di alcuni individui nei canti sono incapsulati la cosa che è molto importante sia gli autori del testo come quello di ieri e sia anche i nomi di poeti e poetesse sia ben chiaro come cantori e cantatrici come sono incapsulati i nomi di alcuni personaggi famosi cioè di capovillaggi che sono stati estremamente eroici che hanno guidato vittoriosi uno scontro quindi questo quindi questo racconto sotto ero molto indeciso se poi dico se faccio scorrere il testo dico non so no onestamente mi sembra però dal punto di vista mio è un po' complicato si può anche fare volendo cioè uno mette accanto però diventa un altro tipo di montaggio ma si può anche fare certo grazie prego mi riaggancio in un certo senso proprio a quest'ultima parte del suo discorso e anche a quello che lei ci ha detto ieri a proposito del problema della traduzione a vari livelli a cominciare anche proprio dalla traduzione verrebbe da dire sonora mi ha colpito in questo senso mi chiedo come lei abbia affrontato la questione proprio dello speaker dello speaker cioè come la voce narrante del documentario perché l'ho sentita da un certo punto di vista distante il che trovo che addirittura sia molto utile a me non piace sì personalmente io sono rimasto abbastanza perplesso infatti l'edizione inglese lo speaker inglese è molto ma molto piaciuto ecco infatti perché per esempio quando l'ho montato mi hanno presentato questo speaker io sono completamente insoddisfatto infatti credo che cambierò la voce perché nel momento la cosa mi ha colpito in maniera particolarmente forte quando lo speaker sta proprio traducendo direttamente ed è dal punto di vista soprattutto sonoro che sento un disturbo un disturbo sono completamente d'accordo però lui il testo non ha niente a che fare con non sono traduzioni infatti questa era l'altra questione lo speaker inglese che è molto più sintetico è molto più distaccato ed è molto molto più piacevole non ho dubbi sono d'accordo grazie una conferma di cambiare la voce esatto grazie a lei bene volevo fare una piccolissima considerazione più che una domanda una considerazione e poi passare alla discussione delle relazioni la considerazione era quanto si perde poi di queste culture faccio un esempio attualmente stiamo conducendo con l'università in cui insegno una ricerca in collaborazione con l'università di Pretoria sul sito di Mapungue in Sudafrica la dottoranda che sta seguendo questa ricerca si è recata a studiare i materiali quindi dal punto di vista chiaramente dell'economia animale e ha tentato dopo di frequentare per un certo periodo una comunità venda che sono i diretti discendenti di questi abitanti della valle dell'Impopo per vedere come ancora oggi gestiscono gli animali e devo essere sincero gran parte dell'economia si è conservata tutta una parte invece chiaramente è andata persa per farvi un esempio nel sito di Mapungue risultavano per esempio un 50% di peco un 50% di capre nel villaggio vendita attuale sono solamente capre perché questa ragazza pensava che fosse dovuto per esempio alla lavorazione del latte e invece assolutamente no perché loro dicono che è assolutamente improduttivo non gli conviene le pecole non ci sono più perché non ci sono più perché evidentemente mentre nel sito di Mapungue appunto filavano la lana il suo testimoniato da pesi di telaio furi suoi ruoli e così via ormai diciamo i vestiti si ricoprono direttamente nella città vicina e non ne hanno più bisogno quindi ci sono tutta una serie studiando queste popolazioni che in qualche modo conservano ancora una certa cultura del passato ci sono sicuramente gran parte dei dati che man mano col tempo purtroppo si perdono questa è una piccolissima considerazione purtroppo penso che come ha detto lei nel giro di 40 anni si sono completamente perse questi aspetti culturali delle isole ma purtroppo questo temo che si stiano perdendo un po' dappertutto ormai non saremo più fra poco temo che non saremo più in grado di coglierli da un punto di vista etrologico detto questo la ringrazio e passerei alla discussione delle comunicazioni di oggi come procediamo liberamente o liberamente allora vi invito i presenti appunto a formulare delle domande come ce ne fosse chiarimenti allora per incoraggiare la discussione gli intervengo io dunque un'osservazione volevo fare ah scusate allora prego scusami non ti ho visto grazie sì volevo dire qualcosa in merito ai vari interventi che sono stati oggi a chiedere a coloro che hanno presentato gli interventi con sepolture di animali associate a uomini e mi sembra che la linea prevalente interpretativa sia stata quella di un legame esistente fra l'animale e la persona inumata si può in qualche caso magari può essere questo anche supportato dal documentato archeologico però nella maggior parte dei casi mi sembrava che si potesse lasciare aperte altre possibilità di interpretazione che fossero quella di una macellazione o sacrificio dell'animale in relazione alla sepoltura che non necessariamente implicava una relazione quindi una relazione amorosa tornando al tema della comunicazione diretta fra l'inumato e la persona quindi voglio sapere suscitare questa riflessione rispetto a chi appunto ha parlato di questo tema se mi può un po' chiarire se prendono in considerazione anche quest'altra possibilità che forse nel mio ambito che è il vicino oriente è abbastanza presente anche il sacrificio animale in accompagnamento sepoltura il problema non è così semplice a dividere allora mettiamo le cose in questi termini almeno nei casi delle sepolture che ho presentato i cani erano stati comunque sacrificati cioè i cani erano stati uccisi al momento delle posizioni nella tomba quindi evidentemente bisogna capire la motivazione del sacrificio nel caso della cosiddetta tomba della vedova che per inciso come giustamente mi ricordava Sandro il sacrificio della vedova rimane nella tradizione palennologica ma è ormai documentato che non è un sacrificio nel senso che sono i roditori che hanno il cane della vedova però il sacrificio del cane all'ingresso può avere la doppia valenza del cane oggettivamente della famiglia o del sacrificio sulla soglia quindi queste due cose andrebbero parimenti allo stesso modo ovviamente mi sentirei abbastanza ragionevolmente portato a ritenere il cane sacrificato e collocato ai piedi diretti del defunto e ovviamente nell'età del ferro i due cani di matelica come direttamente collegati alla figura del personaggio e quindi a dei cani che avevano una relazione particolare con questo che quei cani fossero veramente i cani di sua proprietà o rappresentassero uno stato simbolo a questo collegato per quanto riguarda il mio intervento mi collego appunto con il dottore Gambanari che appunto dice i cani per quanto riguarda il caso diciamo di collina dei gelsi è chiaro che non si può avere la sicurezza matematica questi che siano i cani degli inumati però presumibilmente essendo all'interno della tomba per quanto mi riguarda un legame c'è con gli inumati per quanto riguarda il bovino chiaramente la presentazione del mio caso è stata un po' più tirata ed è un sacrificio ovviamente ci sono tracce di macellazione è un chiaro banchetto funerario c'è semplicemente un legame molto più blando e non sicuramente affettivo semplicemente un sacrificio probabilmente per amore del ragazzino per quanto riguarda l'equino diciamo che l'ipotesi che si è dato è perché sta in una veramente una zona densa di sepolture e sta tra due sepolture ovviamente non si ha la certezza matematica a quale sepoltura sia legato però data diciamo l'età avanzata data anche la patologia si presume che poi ovviamente le certezze in questo campo non si hanno però diciamo si può distinguere diciamo un sacrificio con tracce di macellazione per quanto riguarda il bovino per quanto riguarda i cani secondo me c'è più e per l'equino c'è più un legame che va oltre certo beh tracce di macellazione sul muro non c'erano quindi insomma studiato personalmente quindi sui cani studiati personalmente non ci sono sul bovino studiato personalmente ci sono ok volevo segnalare soltanto l'esistenza di una testimonianza di particolare amore verso i cani o perlomeno rispetto nel vicino oriente nel Levante in età persiana il cimitero di cani di Ashkelon con 500 sepolture di cani senza tracce di macellazione senza tracce di uccisione insomma sono stati proprio sepolti adagiati con cura in piccole fosse scavate nel terreno e questo tipo di rituale si ritrova anche in area fenicia Beirut in altre zone e anche in questo caso ovviamente le ipotesi sono molte cioè non si sa è evidente che non sono sacrificati cioè ma che cosa non si sa sono da soli cioè nel senso ogni sepoltura è singola una sepoltura singola e sono tante cioè 500 quindi si è immaginato che fosse legato forse a qualche figura anche di divinità non so gula in mesopotamia è l'animale però siamo in un'altra area e quindi rimane aperto a chi potesse essere cioè ma questi non sono cuccioli sono adulti no 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 era sì diciamo che in genere la contestualizzazione no sappiamo quindi il no guardi io l'ho cercata perché esatto questo invece c'è al lato della città un'area delicata vabbè comunque era solo per dare un contributo ci sono scusa un attimo ci sono anche casi da noi di necro di cimiteri di animali per esempio a Fidene e a sulla Nomentana Valombarese quando lavoravo alla sovrintendenza archeologica di Roma ho studiato i cani di due cimiteri esclusivamente uno era esclusivamente di cani quello sulla Nomentana Valombarese quindi l'ombe osse con deposizioni di cani Fidene è un po' strano perché erano tombe sicuramente di liberti schiavi gente molto povera senza corredo tra le tombe c'erano anche seppelliti dei cani non in relazione con la tomba che gli stava a fianco assolutamente quindi ovviamente poi ci sono tutti i casi di cani messi a guardia della tomba come il caso della tomba della Veto ma lo stesso cane di Ripoli probabilmente pure il Monte Cetone mi sembra che ci sono dei cani ma quindi bisogna distinguere il problema del sacrificio del cane è molto complesso è molto complesso c'è delle valenze molto diverse per esempio a Lugnano in Teverina c'è un cimitero di bambini di quinto secolo dopo con cani squartati ma lì ci sono rituali magici che sono abbastanza neanche religiosi magici magici ma cagnolini squartati in due una parte messa con uno in bambino un'altra parte messa con l'altra addirittura le mandibole separate una parte cioè complicatissimo come per quanto riguarda l'equino lì bisogna stare attenti molto attenti tanto che stiamo sicuri che connesso con le tombe non sia una cosa successiva sono state fatte delle datazioni perché proprio oggi si inaugura la tomba dei demoni azzurri di cui abbiamo studiato i resti di cavallo e siccome era molto sconvolta no no anzi oggi purtroppo l'inaugurazione ai visitatori intendo al grande pubblico e il cavallo siccome il dromos era particolarmente sconvolto da scambi clandestini io prima di azzardarmi a dire che quel cavallo appartenesse alla tomba fece effettuare delle datazioni al carbonio 14 che poi confermarono pienamente a Berucchio per esempio ci sono due fosse con cavalli sacrificari come Filippo Benza e a est ecco quelle sono le tombe di Lebrustolate di Altino di Padova quelle sono veramente casi di sepolture animali completamente scollegate dall'uomo cioè l'unica l'unica che è stato seppellito sì ma sembra che sia stato l'uomo che sia stato sacrificato per l'animale e non viceversa vabbè detto questo chi è che Roberto scusate se torno volevo porre una domanda da Alessandro per quanto riguarda la parte relativa a che tu hai anche già sottolineato del fatto che a lungo c'è stata una rappresentazione di alcune tipologie di immagini anche molto efficaci dal punto di vista realistico naturalistico invece certe scene quelle che tu hai mostrato che sembravano essere volutamente ambigue o addirittura rozamente rappresentate che spiegazione ti sei dato da questo punto di vista anche perché sembrerebbe essere a questo punto una scelta voluta io credo che quando arriviamo al carrello di Bisenzio poi all'arte delle situle entriamo in un territorio completamente diverso cioè una società talmente complessa che del sesso non ha una concezione che c'hanno nel neolitico nel paliolitico dove non sappiamo ovviamente cosa facevano in vita ma probabilmente era dal punto di vista della rappresentazione un qualche cosa di ambigo misterioso vorrei chiedere a Scoditti a parte la libertà che lui ha riscontrato sul campo quante sono le rappresentazioni artistiche di qualche tipo cioè se questa gente ama rappresentare questa è la cosa interessante io credo io non lo so perché non voglio fare un comparativismo facile perché è stato già qui detto la rappresentazione visiva in quest'isola è totalmente schematica e astratta totalmente perché io mi sono stancato di far vedere le famose canoci moniali le famose taule policome e quello per esempio è un documento visivo scritto estremamente sofisticato perché è basato addirittura su un calcolo intuitivo della sezione aurea che loro l'hanno dedotto guardando probabilmente per centinaia di anni la così chiama la mi viene il termine la conchiglia esatto esatto quindi che cresce nell'isola quindi tutto quindi lo schema è dedotto dalla sezione aurea a livello intuitivo poi la rappresentazione chiamiamola cioè dei segni grafici della tavola policoma sono tutti ricavati attraverso un passaggio molto complicato che loro hanno spiegato chiaramente di carattere per arrivare proprio a una massima sintesi e schematizzazione quindi a livello figurativo loro sono estremamente schematici per cui addirittura se uno può interpretare il cosiddetto significato simbolico volgarmente loro stessi mi hanno detto forse forse potrebbe rappresentare sia il volto e il corpo dell'eroe mitico cioè questo monichinica che ho accenato prima che avrebbe progettato la prima tavola policoma però loro dicono forse sì forse no l'interprezione simbolica cioè del significato della tavola loro la deducono dagli antenati cioè gli antenati ci hanno detto che forse la rappresentazione però nessuno di noi può dire con certezza che rappresenta quest'eroe perché l'interprezione simbolica cioè dei valori di una figura è estremamente arbitraria cioè tu puoi capire lo schema della tavola cioè che questa tavola è dedotta dalla conchiglia perché è certa nel senso che anch'io che sono così non appartengo alla cultura ci sono arrivato attraverso le spiegazioni quello la capisci mentre non puoi capire in modo assoluto il significato simbolico perché il significato simbolico di per sé per loro di per sé già per loro è totalmente arbitrario è il mondo dell'incertezza addirittura hanno un termine utubobuta che tradotto grosso male italiano è supporre supposizione in questo senso quindi è di l'arte chiamiamo di quest'area cioè quella che a voi vi è nota come troppiandese è un'arte all'interno della panaguinia estremamente schematica e astratta noi parliamo soprattutto dell'aspetto delle raffigurazioni di tipo sessuale su queste tavole che non le hai viste c'è anche un accenno e c'è uno scudo magico ma è molto astratto poi non potrebbe ci sono forse degli ordini anche c'è il pub e poi non c'è certezza anche in questo senso quello che volevo dire per esempio lo specchio di Casselvetro poi è particolarmente importante perché in quel caso come secondo me ha dimostrato bene Zaghetto l'atto sessuale diventa addirittura una sanzione della riuscita del matrimonio quindi non ha più solo un aspetto diciamo diventa qualcosa di particolare con un valore sociale perfino economico ecco questa è la differenza il punto mi pare importante cioè il rapporto tra aspetti astratti e aspetti realistici nell'arte tra virgolette primitive è un tema classico dell'arte dell'antropologia dell'arte non dobbiamo associare l'aschematismo l'astrattismo con più primitivo assolutamente no 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 ma il rischio il rischio è esattamente questo in questo tipo di operazione no eh sì perché se diciamo che le rappresentazioni sessuali sono magari ho capito no aspetta fammi finire magari ho capito male io ma se diciamo che le rappresentazioni sessuali diventano esplicite quando si passa al bronzo implicitamente stiamo dicendo che non sono allora se forse dobbiamo trovare qualche connessione la troverei con i meccanismi del potere cioè è interessante che scatta una società gerarchizzata con certi tipi di potere e la sessualità diventa un oggetto esplicito di rappresentazione se vogliamo trovare se no se ci mettiamo su quel crinale là credo che finiamo male ma guarda ma guarda che io sto dicendo quello esattamente quello tant'è vero che come si dice l'arte paleolitica è un'arte talmente complessa con delle figurazioni talmente perfette che sostenere questo sarebbe impossibile io come pre-storico non me la sentirei mai quindi non vi preoccupate non c'è questo pericolo di equazione tra arte paleolitica e tra l'altro visto in generale il tipo di decorazioni di motivi eccetera di cui ci occupiamo noi dovremmo stare freschi insomma francamente è lungi da me fare questo ragionamento professore mi dispiace perché intervengo su un argomento molto diverso perché c'è stata una relazione sui luoghi dell'Eros che era un tema secondo me molto importante e mi aspettavo qualche cosa dall'immagine di Piazza Armerina perché lì chiaramente marca i privata domini dove si fa l'Eros mentre i privata domini si fanno solo figli quindi sono proprio due categorie invece è importante tutto l'aspetto diciamo semantico e genetico della prostituzione a Roma dunque la prostituzione a Roma non nasce nel secondo secolo ma nasce ufficialmente nel 295 con la dedica del tempio di Venus Obsequens fatta da Fabio Gurgite al Circo Massimo ed è fatta perché lui come edile multa le matrone colpevoli di adulterio sono stupridamnatas cioè sono date in pubblico e quindi dal 290 e infatti il tempio di Venere Obsequensia Circo Maximum dove ci sono i fornici da cui deriva la parola fornicare quindi diciamo in questo senso qui c'è questa fase della prostituzione che è estremamente vaga no cioè si fa per strada quasi no e ha invece una fase che probabilmente è parallela perché ha origini molto remote e cioè quello per cui diventa prostituta postribulum tutta questa è il stare davanti alle stabule questo vuol dire cioè i luoghi della prostituzione sono le stalle e questo però ha origini molto remote perché la cosa deriva dalla prostituzione orientale nel famoso residui erodoto con la descrizione del tempio di Milita a Babilonia con le donne che aspettano di essere possedute da un uomo perché poi questo permette di pagare al tempio la liberazione questo è il discorso no naturalmente ci sono legioni di persone che non credono a queste cose perché c'è dietro un tarlo che è quello di la prostituzione sacra sono due termini che non riescono a immaginare soprattutto puritani sono anglosassoni che non riescono a capire questo insomma la Anacreonte questo è un frammento piccolissimo di Anacreonte dice che la definizione di una prostituta è anzi sono due Anasurtopolis e Fteiro più le Anasurtopolis vuol dire quello che corrompe la città e Fteiro più le è quello che si spoglia davanti alla porta quindi diciamo c'è un rituale che è di tipo orientale che è contenuto addirittura nel papillo di Colonia quello anche questo è un pezzo celeberrimo di archilogo che non è stato capito perché è tutto giocato con allusioni al linguaggio della prostituzione sacra e dice infatti che lui ci sono molte altre cose che la dea può consigliare al di fuori del toteion crema della cosa divina cioè l'atto sessuale pieno e poi dice speso ma liberò sotto il freggio cioè sulla porta e poi c'è sceso ma es poi forus cheesus cioè ti porterò verso i giardini pieni di erba quindi è una fordita in chepois e i giardini sono il luogo del coito quindi diciamo la costituzione di questo linguaggio e la localizzazione di questo linguaggio è tutto molto arcaico solo che quando entra la schiavitù di tipo vero cioè schiavitù di massa e allora si capisce la stabula cioè perché sono stalle praticamente questi postriboli il lupanar di Pompei è illuminante per questo quindi secondo me questo è un discorso che può avere grandissimi sviluppi mi spiace che non mi pare che non ci sia più nessuno che rappresenta questo no c'era qualcun altro vieni Giovanni sì no intanto a parte l'interesse veramente per per questo filmato siccome lei spesso ha parlato di antenati volevo capire il concetto di antenati per questo gruppo il concetto del tempo della memoria perché in alcune popolazioni mi è capitato di vedere anche in alcune zone dell'Africa di si riferiscono diciamo si parla appunto di questi antenati poi ci sono delle tombe diciamo nelle vicinanze ma non vengono associate in qualche modo al tombe certo no no ma infatti mitici appunto però mi faceva mi interessava capire se c'è che tipo di concetto del tempo c'è del passato ecco e della memoria quindi grazie allora l'antenato anzi l'antenato antenato antenato è un essere androgeno cioè ogni clan discende da un essere tra virgolette mitico che chiamano tabugu che in questa lingua significa tabu che non ha niente a che fare con il polinesiano tabu è colui o colei che è già madre o padre di mia madre e mio padre e io mi sono incusito quando loro chiamavano tabugu quindi la mia antenata cioè quella che ha generato il mio gruppo clanico subclanico e chiamano tabuco anche per esempio mia nonna allora lì a loro ho afferrato questo concetto un po' curioso cioè loro usano questo termine per avvicinare l'antenata mitica quindi che non viene mai rappresentata al presente e allontanare contemporaneamente la nonna quindi l'antenata più vicina nel passato quindi giocano e questo chiarisce anche molto abbastanza sul concetto del tempo allora quindi l'antenata mitica non viene mai nominata è un essere che non viene nominato questo nome generico e non viene mai rappresentato né descritto né con le parole né a livello iconografico e questa antenata che è un essere androgino esce fuori da se stessa dalla terra che è spesso sono quattro i gruppi sono quattro buchi complemento anonimi che a volte possono essere collegati al sottosuolo ma non sono per esempio mai segnate da segni eclatanti per esempio quando io ho individuato dei complessi megalitici essendo un bianco ovviamente ho collegato che fossero invece no per niente anzi i luoghi l'unico luogo sacro vero da cui è uscito fuori da se stessa l'antenata è diciamo un luogo anonimo quasi segreto quello lo sanno dov'è ma una volta che me l'hanno mostrato era semplicemente un muco nella terra quindi non era segnato da niente eclatanti poi ho capito il megalite che di solito è su pianta tendenzialmente circolare elittica e loro dicono non può essere un segno dell'antenata perché c'è l'intervento dell'uomo cioè nel senso che la mano umana è nella pianta cioè la pianta elittica il megalite è semplicemente un pezzo più o meno enorme di roccia corallina che è stato spostato e così c'è si incassato quindi una cosa semi-umana quindi essendo semi-umana non può essere segno dell'antenata questo per dare quindi e poi c'è questo appunto il fatto di allontanare l'antenata presente cioè la madre di mia madre diciamo nel passato e avvicinare l'antenata vera mitica al presente spiega anche questo concetto del tempo cioè un tempo elastico loro hanno una metafora stupenda secondo me su cui poi mi sono anche un po' fissato è questa famosa spirale logaritmica il presente non è altro loro dicono che qualcosa del passato soltanto si distingue dal passato per magnitudo ma lo contiene d'accordo come faccio conto è come un'elica della spirale logaritmica di questa famosa conchiglia in auto se compilse ecco questo mi è venuto in testa quindi diciamo il presente o un'elica che quindi noi sappiamo che non altro che è un'elica precedente identica ma soltanto che è un po' più diciamo così è diversa per magnitudo d'accordo quindi il futuro sarà un'altra elica che contiene il presente però che espande perché loro dicono con questo sistema della spirale logaritmica si può andare avanti all'infinito e tornare all'indietro quando uno dice allora il presente è un questo taglio arbitrario che si diciamo così che si fa su questa spirale quindi è una concezione temporale spiraliforme quindi non è né lineare né tantomeno circolare ma è spiraliforme e infatti se avete visto le danze cicli esatto infatti le danze che avete visto hanno anche questo movimento si muove come una spirale che si apre e si chiude intorno alla pedana che è dei danzatori e dei cantori quella è una rappresentazione iconografica per esempio del tempo in senso appunto cicrico quindi la cosa che può incursire che l'antenato quindi che è questo essere andorogico infatti è questo essere andorogico che a un certo punto si autofeconda e partorisce un uomo e una donna quindi un figlio e una figlia si distingue in A e B maschio e femmina poi la femmina si accoppia con un uomo che non viene mai citato e partorisce dei figli e delle figlie la prima figlia si accoppia con un uomo che viene da lontano e da questo punto cominciano a recitare la genealogia quindi mi pare ovvio visto il terrore che hanno dell'incesto tra fratello e sorella ho dedotto che probabilmente questo terrore è dedotto dall'immagine di questo incesto chiamiamolo primordiale perché ovvio quando l'antenata autofecondandosi e partorisce un figlio o una figlia e questa figlia si accoppia con qualcuno che non viene citato non può che essere suo fratello e ancora oggi quindi io l'ultima volta del 2014 se io sto parlando con un amico per esempio con Valentino e si avvicina la sua sorella lei fa tutto un giro complicatissimo quindi gira tutte le spalle poi si mette accanto a lui e a questo momento io posso parlare anche con la sorella cioè perché lei controlla perché è una cosa veramente agghiacciante perché c'è questa androgenia continua e vivente cioè la coppia vincente terribile che io sono fratello e sorella in tutte le decisioni nella divisione della terra un uomo non può lasciare nulla di materiale al suo figlio ma la deve lasciare ai figli della sorella perché essendo matrilineare e c'è un controllo ossessivo della sorella quindi un uomo lascia ai suoi figli i beni materiali un canto una figura di danza per esempio uno di questi simboli dello scambio rituale così via ma il bene materiale è controllato esclusivamente dalla donna che controlla ovviamente anche la terra quindi non so se ho risposto allora siamo arrivati all'orario dobbiamo chiudere avrei delle riflessioni flash che sono i supporti tutta l'iconografia dell'amore esposta da Alessandro naturalmente va legata al luogo in cui quelle raffigurazioni erano collocate e al supporto alla sua funzione e anche al luogo in cui poi questi oggetti possono essere trasportati e quindi risemantizzati la corporeità quella animale quella umana che altera naturalmente cioè anzi che ci può guidare nell'interpretazione di una società rispetto al modo in cui si pone in merito a ciò che considera umano o non umano che può essere un oggetto inanimato un animale un bambino un uomo o nessuno di tutti questi o uno straniero i bambini e gli animali possono essere effettivamente degli elementi molto interessanti per cercare di individuare un codice interpretativo rispetto all'interpretazione stessa che una società dà dell'umanità e poi appunto io ringrazio Giancarlo perché effettivamente questo video che abbiamo potuto vedere nel quale lui proprio le sue parole ha detto ho cercato di recuperare frammenti ci insegna quanto noi forse a volte perdiamo di vista come archeologi nel nostro eccesso di materialità io osservavo i piedi sulla sabbia e immaginavo l'assenza appunto di tracce di quello che avremmo voluto ricostruire rispetto a tutto quello che tu ci hai raccontato e che hai potuto osservare osservavo le case sullo sfondo immaginavo i buchi di palo che avremmo trovato e nient'altro così come il palo che era al centro di quella rappresentazione recuperare frammenti impronte nella sabbia interpretarle confrontarci con la cultura osservare come scompare nel momento in cui la osserviamo e la nostra osservazione spesso porta a farla scomparire ecco non c'è modo per spingere oltre questi concetti ma volevo soltanto trasmettervi non solo l'emozione che provo ogni volta che ho la fortuna di organizzare occasioni come queste e quindi imparare da voi ciò che poi ritengo per me altamente formante ma volevo anche nel restituirvi questa emozione sottolineandola incoraggiare non chi è in questa sala perché solo il fatto di essere rimasti fino a quest'ora e con questo caldo qui dimostra che il coraggio lo avete ma magari chi è fuori chi vede questo video chi leggerà gli atti a cercare di recuperare quei frammenti con questa coscienza con questa attenzione nei riguardi di quelle emozioni che Alessandro ha citato all'inizio in quel brano di Levi-Strauss che guarda caso era anche in conclusione dell'introduzione che io ho fatto al primo di questi convegni e proprio quel brano che tu hai citato era quello che io ho ritenuto importante sottoporre all'attenzione di archeologi troppo alle volte persi intorno alla seppur importante materialità e filologicità della loro ricerca però non perdiamo di vista l'essere umano e chi di noi ha la fortuna di fare questo lavoro pagato cerchi di restituirlo agli altri perché questa è la sfida importante ci vediamo domani alle nove e mezza cominceremo puntuali sarà una sfida anche questa di domenica mattina è col caldo ma ringrazio anticipatamente chi vorrà affrontarla grazie a tutti 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 grazie a tutti